Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Mi chiamo Maria Sofia, ho 16 anni e io non spero di cambiare il mondo. Sono convinta che lo farò. Sono una tipa decisa, passionale, che non si arrende mai e sa esattamente cosa che vuole. Io voglio cambiare il mondo. Maria Sofia è tanto, è tanto. Sto scrivendo un'opera filosofica che ha tre concetti principali, ovvero libertà, arte e infinito, che hanno come fine ultimo il portare gli esseri umani alla felicità. Ho una pagina di attivismo. Le tematiche principali sono i diritti umani in genere, sessismo, mi occupo della comunità LGBT. Mi ha aperto un mondo, davvero. Mi ha fatto capire tante cose nuove. Io vorrei che Sofia imparasse al collegio ad accettare maggiormente l'opinione altrui. Rispetto alle persone della mia età non mi sento particolarmente diversa, perché io mi sento diversa a priori rispetto a tutti. Grazie. 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 Grazie.